Allora io inizio subito con i ringraziamenti. Ovviamente i primi vanno al dottor Ebner per aver accettato l'invito mio e della collega Anna Maria Occasione e con lui ovviamente anche a tutti gli altri relatori per essere qui oggi con noi. Ringrazio anche ovviamente sempre il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'ospitalità e per aver patrocinato questo evento. Prima di tutto vi porto i saluti del dottor Claudio Viazzi che come avete visto dalla Locandina avrebbe dovuto essere qua ma che purtroppo è impegnato a Roma per le commissioni di riforma della legge fallimentare. Si scusa per non essere qua e soprattutto è molto dispiaciuto perché avendo letto il libro che ha molto gradito avrebbe partecipato molto volentieri a questo incontro. Io che sono qua solo per dirvi due cose di introduzione e vi dico come abbiamo inteso svolgere la discussione oggi. Abbiamo pensato che il modo migliore per presentarvi questo libro fosse evitare di assegnare dei temi specifici ma lasciare spazio all'autore e agli altri relatori di offrirci le loro impressioni sul libro e traendo ovviamente spunto dalle loro esperienze professionali di avvocati e di magistrati. Sempre per introdurvi il libro mi fa piacere raccontarvi come è nata l'idea di presentarlo qui a Genova. A giugno ero in libreria giuridica per cercare degli altri testi e mi è caduto l'occhio su questo libro appena uscito e mi ha colpito soprattutto il motto che viene riportato sul retro della copertina del dottor Ebner che vi leggo perché merita e dice siamo tutti appesi a un filo ed io sono anche sovrappeso. Da questo da questo motto così simpatico mi è nata una grande curiosità di leggere il libro. L'ho comprato, l'ho letto d'un fiato, è piccolo ma denso, molto denso, l'ho letto d'un fiato, mi sono divertita tantissimo e ne ho subito comprato un po' di copie da regalare amici e colleghi. Una delle copie l'ho regalata ad Anna Maria la quale conosceva già il dottor Ebner, anche lei l'ha apprezzato e abbiamo deciso di condividere con voi colleghi e con i magistrati genovesi questa nostra bella scoperta. Ringrazio le mie cugine ovviamente. Se vi dovessi dire tutto quello che mi è piaciuto del libro sicuramente parlerai troppo e toglierai spazio al dottor Ebner e agli altri relatori. Vi dico tre caratteristiche di questo libro che più mi hanno colpito. La prima l'autoironia. L'autoironia fra l'altro è la dodicesima delle qualità che il dottor Ebner cita per sopravvivere come necessarie, per sopravvivere in tribunale. Lui la definisce come la capacità di ironizzare e ridere di se stessi e saggiamente aggiunge a volte è bene prenderci un po' in giro, non viene meno nulla del nostro ruolo di custodi delle leggi e forse ci si acquista in lucidità. Anche se la cita per ultima, perché è la dodicesima delle qualità, il dottor Ebner la definisce la migliore e io sono d'accordo con lui, anche se in effetti leggendole tutte poi è difficile fare una graduatoria di importanza di queste qualità. Quello che mi sento di dire è che forse è la migliore perché a mio avviso per essere autoironici bisogna avere, se non tutte, anche molte delle altre dodici qualità che vengono indicate nel libro. La seconda qualità di questo libro è l'empatia che l'autore definisce la capacità di medesimarsi nelle condizioni di un altro e condividerne i pensieri ed emozioni. In questo libro secondo me c'è tantissima empatia verso tutti, tutti almeno le persone che a vario titolo interagiscono col mondo giudiziario, verso gli avvocati a cui ve lo dico, secondo me è quasi un unicum, il dottor Ebner ha dedicato addirittura un elogio dell'avvocato, per la pazienza con cui spesso gli avvocati affrontano certe situazioni, verso gli imputati e vi cito una delle frasi che sono sicura mi ricorderò di più, che dice gli imputati inesperti patiscono più il processo della pena. Devo dire, ho riconosciuto, anche se non faccio penale faccio civile, ma ho riconosciuto tanti i miei clienti in questa espressione, soprattutto appunto chi non è esperto e non vive tutti i giorni nel tribunale essere parte di un processo è una cosa in un certo senso penosa. E poi anche empatia verso tutto il resto del personale di giustizia, cancellieri, traduttori, interpreti. La terza e ultima caratteristica del libro è la leggerezza. La leggerezza non è una delle dodici qualità che vengono citate, ma viene indicata nella, vorrei dire, veramente efficace prefazione del libro, dove viene riportata una bella frase di Italo Calvino che diceva prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Ecco, a me sembra che questo libro tratti e ci faccia riflettere su temi molto importanti e se vogliamo tutt'altro che leggeri, anzi direi piuttosto grevi, perché penso uno per tutti il peso della decisione del magistrato. Ogni giorno hai il peso di dover decidere qualche cosa. Magari può sembrare facile, ma credo che non lo sia. Secondo me questo libro, l'autore ha avuto la capacità di condurci in queste riflessioni con grande leggerezza e vorrei aggiungere una cosa in più rispetto a quello che si dice nella frase di Calvino. Non solo secondo me la leggerezza non è superficialità, ma come ho detto al dottor Nebner, io credo che solo chi vede le cose veramente in profondità, allora poi riesce a essere anche leggero. A questo punto io lascio la parola agli altri relatori, prima di tutto l'autore, sperando di poter affrontare questo pomeriggio appunto appunto con leggerezza. Bene. Per me, per me, poi passo la parola subito ai miei colleghi di tavola per dire due cose. uno che quando mi si esalta troppo, dico sempre che dovrei invitare qua la mia ex moglie per rifare un po' il quadro, per ristabilire un po' il quadro della situazione, perché poi in realtà sono molto più terra terra. Seconda cosa, però di terra terra, che io appunto, l'ho detto anche oggi a tavola a pranzo, insieme, che io mi sento come i jalis, cioè ho fatto una sola canzone, ho fatto un solo libro, che ho riassunto un po' tutto, giro, godo di quello, come quel personaggio che aveva scritto il jingle di Natale e ci campava, che era Harry di Presentosellio, e girava per pranzi e cena, che per me è proprio l'ideale, è stupendo, anche l'accoglienza che ha avuto qua a Genova, mi ringrazio, è stata bellissima, ho fatto anche il giro della città, proprio bellissima. Vale la pena solo aver scritto il libro, solo per essere venuti qua a pranzo e incontrare voi. A proposito di questo, e poi appunto passo la parola, quando ho scritto questo libro, il mio affidatario, che è una persona in gamba, ma sempre molto simpatico con me, mi disse guarda, questo libro non è un granché, però il fatto che sia piaciuto tanto agli avvocati, vuol dire che noi magistrati abbiamo sbagliato qualcosa con gli avvocati, perché probabilmente abbiamo avuto un approccio con gli avvocati talmente imperdonabile, che è un libro che parla poi di cose normali, perché non è un libro eccezionale, parla di rapporti tra persone, prima di tutto le prime categorie, venga poi apprezzato tanto, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa, e io ho pensato che già il libro avesse avuto un suo successo, perché si aiuta a riflettere anche noi magistrati sul rapporto che abbiamo con gli avvocati, è una cosa che che ha una sua valenza.